Grazie a un assalto che è avvenuto la notte scorsa, a che ora è successo? Allora, è successo all'1.30 di notte, è stato un movimento abbastanza rapido, deflagrazione, hanno forzato la porta, poi subito installato il solito sistema che può essere la cosiddetta marmotta o esplosivo, sono entrati e il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 14.000 euro e poi sono fuggiti. Il problema è che sono più i disagi dovuti ai danni subiti, perché abbiamo dovuto sospendere l'attività nella filiale e ci auspichiamo ragionevolmente che lunedì si possa riaprire in sicurezza. Quindi danni ingenti anche alla struttura? Diciamo che non abbiamo quantificato, però sicuramente la deflagrazione ha comportato parecchi danni. Avete già avagliato le immagini di videosorveglianza? Il collega insieme alle forze dell'ordine le ha viste, sì. Si nota qualcosa in particolare? Ma guarda, so che, a quello che mi hanno detto, le telecamere sono state oscurate, le due telecamere. Si intravedono due figure, una macchina dovrebbe essere un'Audi bianca, però è difficile intravedere qualcosa di più nitido e preciso. Ora indagano le forze dell'ordine e diceva uffici purtroppo che sono stati chiusi anche sportello fuori uso, quindi bisognerà fare riferimento ad altre filiali al momento. Esatto, corretto. I colleghi sono impiegati presso le altre filiali e purtroppo per la clientela un po' di disagio perché si dovrà rivolgere ad altre filiali. Comunque siamo sempre disponibili.